Bello, veramente bello, emozionante, vedere i ragazzi sullo schermo e dal vivo e vedere loro che piangono è stata veramente una bella emozione. Mi porta a casa tante emozioni, tante veramente situazioni che non conoscevo e non pensavo. Vedere anche una sala piena di ragazzi della loro età che partecipavano e vivevano con questi ragazzi le emozioni, condividevano le stesse situazioni, secondo me è stato bello. E' costruttivo. Sicuramente è stato molto coinvolgente. Vicino a me avevo una delle interpreti del film che abbiamo presentato, la quale ha praticamente pianto, si è commossa dall'inizio alla fine. E vedere questa commozione, vedere questa partecipazione in persone, sapendo che più o meno tu e i tuoi colleghi hanno permesso questa cosa, è qualche cosa che ti scalda il cuore. Grazie. Mi porto a casa questo incontro che è il coronamento di tutto il progetto, cioè un film fatto da ragazzi, per ragazzi, mostrato ai ragazzi. È fondamentale come... è meritorio tutto quello che il Giffoni Festival fa e quello che riusciamo a portarci dentro, noi come autori, produttori, chi ha partecipato, è straordinario perché racchiude un po' tutto il percorso. Ah, c'è dentro un po' tutto. È proprio una celebrazione ed è molto importante. Questo è stato l'inizio perché poi il film sarà poi chiaramente visibile anche nei nostri festival, però è un dono il riuscire a presentare un lavoro per ragazzi a Giffoni e quindi grazie a voi. Allora, secondo me a Giffoni si incontra il futuro perché chi è seduto in platea o chi, come nel nostro caso, ha presentato un film interpretato da giovani, da giovanissimi, voglio dire, si deve confrontare con il proprio futuro perché questi ragazzi che ci sono qui sono quelli che domani saranno la nostra classe dirigente, saranno gli uomini, le donne e gli uomini del futuro. Per cui questo è un luogo ricco di promesse, di possibilità di migliorare questo mondo e di lanciare dei messaggi sperando che persone che sono ancora in qualche modo incontaminate da tutte le sovrastrutture che noi ci portiamo dietro e possano raccogliere certi messaggi e far diventare propri. Questo secondo me è Giffoni. Un progetto nato su un tovagliolo di carta, questo è stato l'inizio. Bello, che ha dato la possibilità a questi ragazzi di esprimersi, ha dato la possibilità, e qui devo ringraziare Giffoni Festival, di aprirsi, di trovare tutto un mondo che non è solo quello del rione, quindi la chiusura all'interno di un quartiere di Napoli, ma trovare un mondo che è molto più ampio, che vive le loro stesse emozioni, le loro stesse difficoltà, forse un po' diverse ma fa niente, però vive quello che è il mondo dei ragazzi, che hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di essere aiutati, hanno bisogno di qualcuno che gli sia vicino e trovare in questo momento l'esperienza che abbiamo vissuto, un ambiente dove altri tuoi coetani ti stanno ascoltando, altri tuoi coetani condividono quello che stai dicendo, dalle applausi si notava questa condivisione e partecipazione, offre a loro la possibilità di non fermarsi sul loro problema, ma di aprirsi a sogni e progetti più grandi. Io sono sempre stato sensibile a due temi, il sociale e l'ambiente, questo è il mio terzo progetto, il mio terzo film che presento a Giffoni, e sono sempre diciamo estremamente felice di raccontare qui l'esperienza umana che diciamo mi capita di incrociare al momento in cui realizzo questi progetti, che normalmente, che non a caso sono progetti legati al mondo dell'adolescenza, al mondo della crescita, la crescita personale. Ecco, questo progetto ha una caratteristica, se una caratteristica fondamentale devo scegliere di questo progetto è il focus sulla crescita, sul modo in cui i ragazzi considerano il successo e su cosa potrebbe in qualche modo anche in futuro fargli cambiare la loro visione di successo, ampliarla e a me piacerebbe tantissimo vedere le loro facce nel momento in cui rivedranno questo film fra cinque anni. Non dovranno superato la fase diciamo problematica dell'adolescenza e quindi potranno vederla con gli occhi dei nascenti adulti. Secondo me riguardarsi, riguardarsi allo specchio, riguardare la propria crescita è un elemento, diciamo, è un ponte tra il presente e il futuro. E siccome Massimo dice giustamente che questi ragazzi qui ai Giffoni sono il futuro, è giusto guardare il futuro. Beh, credo che questo sia un tema sicuramente assolutamente azzeccato in un momento in cui tutto sia molto complicato e tutto nonostante ci sia un'interconnessione con tutto il resto del mondo, poi questo mondo è pieno di muri, di mari difficili, se non impossibili da attraversare, insomma, dalla volontà da una parte di essere sempre iperconnessi e dall'altra parte invece di volersi difendere a tutti i costi dagli altri. Quindi il tema secondo me mi sembra un tema assolutamente azzeccato perché credo che questo permetta di riflettere in un ambiente appunto così predisposto al fatto di parlare, di mettersi in discussione, di poter affrontare anche un tema come questo perché a mio avviso ci si illude molto, pensano di costruire dei muri. Lo trovo anch'io molto importante, lavoro nel mondo giovanile da anni e vedo come c'è proprio questa difficoltà o no, dell'essere noi stessi, della comunicazione e tutto quanto. Penso che sia importante, da una parte sono iperconnessi come diceva anche Massimo, dall'altra parte veramente la distanza che avvertono moltissimo, sembra che ci si possa connettere solamente attraverso un cellulare, invece dovrebbero imparare che quello è uno strumento per entrare in relazione con l'altro e devono incontrarlo poi personalmente, non in modo virtuale. In questo film abbiamo parlato del tema, alla fine non l'avevamo declinata in questo modo, ma in realtà poi possiamo rivederla anche in questa ottica, perché l'illusione della distanza è il fatto che loro credevano di poter, dover raggiungere successo attraverso chissà quali prove, attraverso la, diciamo, deformazioni se stessi, ponendosi verso il mondo con delle maschere. In realtà invece hanno raggiunto il successo, quello intimo, quello personale, crescita di cui parlavo prima, essendo se stessi. Quindi questa illusione della distanza è proprio un riappropriarsi del sé, della propria essenza, della propria realtà e, diciamo, modificarla a piccoli passi, non pensare che il cambiamento, che tutti, a cui tutti aspiriamo, sia una rivoluzione totale di ciò che siamo, ma possiamo semplicemente cambiare, modificarci, diventare adulti, facendo dei piccoli passi e aprendo il nostro mondo all'esterno senza paure. Se posso aggiungere, perché mi piaceva molto, prendendo anche uno spezzone del filmato, del cortometraggio, non è importante avere migliaia di like, ma è importante avere cinque amici. Quello, secondo me, riassume molto bene il valore che volevamo trasmettere. Sii te stesso, trova degli amici veri. Un saluto caloroso, bellissimo vedere tanti ragazzi in sala. Vorrei dire, ragazzi, percorrete i vostri sogni, costruiteli. Non lasciatevi prendere dalle situazioni, dalle difficoltà, ma sappiate sempre costruire la vostra vita con il sogno che avete davanti. Dopo questo è difficile riuscire a dire qualcosa d'altro. Io credo che, andando in scia, l'unica cosa che posso dire è di avere fiducia in se stessi, che ognuno di noi, voglio dire, ha dei pregi, ecco. E quindi ascoltatevi, ascoltiamoci sempre, perché questo ci aiuta a crescere. Io vorrei dire soltanto una parola ai ragazzi, ai ragazzi di oggi. Aiuto, costruitelo voi il mondo in cui noi invecchieremo. Perché sono sicuro che sarà sicuramente, sarà meglio, sarà un mondo migliore.